Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola. Il Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro Andate anche voi nella vigna. Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro Andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone dicendo Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore Gesù in questo Vangelo potrebbe essere accusato di comunismo perché è tutto uguale, a prescindere quello che fai, hai solo quello e nient'altro. Però a parte questa ironia che potrebbe essere interessante anche approfondire questo aspetto, ma quello che la parabola oggi, ascoltandola bene, penso che nessuno non rimanga infastidito. Perché pensate voi che siete i primi che avete lavorato da stamattina, arriva la sera e vi dicono che avete guadagnato quanto quello che ha lavorato un'ora sola. Vi sembra giusto come si comporta Gesù? Sareste contenti voi? Non so. Mi piacerebbe sentirvi rispondere. Però credo che nella nostra mentalità tutti diremmo di no. Del resto, chi ha dei dipendenti, immagino che non faccia questo ragionamento, ma che a seconda di quanto uno lavori, gli viene dato, a seconda del contratto e di quanto però, come fa Gesù, viene pattuito. Allora in fondo Gesù non ha torto, perché lui l'ha pattuito. Perché devi stare a guardare quanto do all'altro? Perché devi stare sempre a guardare cosa fa l'altro? Perché devi confrontare te stesso con l'altro? Per capire se tu vali o non vali. Se quello che hai guadagnato l'hai veramente guadagnato oppure no? Se davvero il padrone ti vuole bene, perché vali più dell'altro, allora ti vuole bene? Perché forse hai preso più dell'altro, allora il padrone davvero ha riconosciuto il tuo lavoro? E' forse questa la soluzione al problema? O è quello che cerchiamo in fondo come affetto? Dove la nostra vita in fondo cerca sempre questo, di essere riconosciuti, di essere guardati, di essere valorizzati. E allora questo diventa un problema però, perché in fondo diventa anche importante capire se noi lavoriamo nella vigna o lavoriamo per la vigna, cioè per il Signore. Questa è la differenza. Ma la dinamica, soprattutto umana, si ripete continuamente. Si ripete anche nelle questioni di gruppo. Ogni qualvolta che arriva una persona nuova in un gruppo, è sempre faticoso accogliere che viva. Il frutto di quella familiarità del gruppo anche per lui. Noi da anni che siamo familiari siamo amici. Tu in pochi mesi vorresti vivere la stessa amicizia che c'è fra di noi? Eh no. Quanto succede questo in parrocchia? Che arriva all'ultimo? Eh no, non è giusto che tu viva la stessa familiarità di noi che sono anni che siamo qua. Perché il parroco ti tiene così in considerazione? Ma è lo stesso discorso di Gesù, che non guarda quanto tu fai, ma è il discorso invece della mentalità che ci sta dietro. Lavori nella vigna o lavori per la vigna? È importante questo perché la parabola inizia, il regno dei cieli è simile. E qua ci sta la prima differenza. Gesù dice il regno dei cieli, non la vita mondana. Perché la vita mondana è diversa dalla vita del regno dei cieli. Perché la vita ordinaria è una vita educativa. È giusto che uno, se lavora un tot, per giustizia lavori tot. Perché educa. Se uno non facesse nulla dalla mattina alla sera e tu gli dai i soldi, non è educativo. La differenza tra il regno dei cieli e la vita ordinaria è che la vita ordinaria è un cammino di crescita umana. Tutte le esperienze che noi facciamo diventano esperienze in cui cogliamo il Vangelo che ci educa. Che ci fa diventare quella pienezza che è il regno dei cieli. Il regno dei cieli non è un cammino, è la pienezza del dono. È la pienezza della maturità umana. È la pienezza del progetto di Dio su di noi. Quindi lo devi vivere a pieno. Non ti può essere dato in parte. O è tutto o è niente. Questa è la differenza. Per quello il regno dei cieli è diverso. Perché in fondo non lo metti sullo stesso piano in cui uno deve crescere in modo per essere educato, valorizzato, capire il valore delle cose. Ma è la piena paga che tu devi ricevere. È la pienezza di quello che tu sarai nel regno dei cieli. Non ti si può essere dato in parte. Un po' te, un po' meno, perché tu hai fatto o tu non hai fatto. Perché poi l'altra grande questione è che ognuno ha la sua storia, la sua circostanza. Io lo vedo a volte io stesso. Quando faccio delle cose, io vedo che faccio differenze. Ma non è una differenza di preferenza, ma di circostanza, di storia, di persona, di poter fargli fare quel passo che l'altro l'ha già fatto magari. Ma lui ha bisogno di farlo. E quindi l'attenzione che uno ha è perché si viva per il regno dei cieli. Non perché ho fatto questo. E questo è importante, perché la frase finisce la parabola. Gli ultimi saranno i primi, i primi saranno ultimi. Ma perché i primi diventano ultimi se hanno lavorato così tanto? Questo poi non solo ha preso la stessa paga, diventa pure ultimo. Ma perché? Perché non hai mai lavorato per il regno dei cieli. Cioè hai sempre lavorato finalizzando a questa ricerca di essere riconosciuto. Con funglie far vedere che tu hai fatto. Non hai lavorato per il regno dei cieli. Che cosa vuol dire lavorare per il regno dei cieli? Che quando ti metti a lavorare nella vigna del Signore, tu pensi come il Signore. Tu diventi buono come il Signore. Sei forse invidioso perché io sono buono, ma posso fare delle mie cose e quello che voglio. Allora il Signore non sta a guardare chi ha fatto di più, chi ha fatto di meno. Ma fa il possibile che tutti ricevano tutto il grande paga che è il regno dei cieli. Allora solo dentro questa mentalità non è più importante quanto hai lavorato, se sei da tanto tempo in parrocchia o no, se sei nostro amico. Ma l'importante è che tu venga nella vigna, che tu impari anche tu a vivere la bontà di Dio, che anche tu diventa un Vangelo vivente, che anche tu diventa discepoli e che tu possa vivere quella mentalità lì che non sta a calcolare quanto sei buono, quanto hai fatto. Questa è la differenza. La differenza fa il regno dei cieli e la vita mondana, che hanno due circostanze diverse. Il Signore vuole dare la paga piena a tutti. Ma l'altra cosa che io vorrei far notare, che è di importante, ma meno male che il Signore è così, che all'ultimo gli dà quanto al primo. Perché questo vuol dire che anche per noi sarà così. Perché se noi vogliamo che la giustizia sia misurata e il dono sia misurato, ricordatevi che anche per noi sarà così. Ma siete così sicuri che avete lavorato tanto nella vigna? Siete sicuri che tutti noi possiamo andare davanti al Signore e pretendere la paga piena? O forse anche noi avremo dei buchi in cui siamo stati disoccupati nella vigna? Allora, pensate che bello, anche se siamo stati disoccupati, ma quel poco che abbiamo fatto al Signore gli basta per darti tutto. Ma meno male che è così. Allora speriamo che lo continui a fare con quelli che a noi ci sembra che non facciano niente per il regno dei cieli. Che continuamente il Signore chiama a tutte le ore e speriamo che li chiamino sempre e che rispondano e che possano lavorare nella vigna e che gli dia tutto, quello che noi abbiamo anche già ricevuto. Ma speriamo, perché così anche noi lo riceveremo. Perché questa è la nostra giustificazione. Signore, non sei stato buono con quello? Allora fallo anche con me. Questo sì che glielo potremmo dire al Signore. L'hai detto tu che sei buono e l'hai fatto con l'ultimo? E allora fallo anche con me. Questo glielo potremmo dire. Però capite? E la grandezza di Dio è che sa colmare pure i giorni che non abbiamo lavorato. Se andate da qualche altra parte, ufficio statale, si contano i giorni di pensione. I giorni di pensione che non hai lavorato, cioè la pensione, te la danno più bassa. Ed è incolmabile quel vuoto. La grandezza di Dio che colma anche i tuoi vuoti. Tutti quei giorni che tu non li puoi più recuperare. Non puoi più tornare indietro a dire, ma sì, mi metto a lavorare. Non lo puoi più fare. La grandezza di Dio è che ti dà tutto anche se hai fatto poco. E colma, per quello è Dio, il perdono. Quello che da alcune settimane sto dicendo. Perché colma il vuoto che tu non puoi recuperare.